E' ora di alzarsi, dai tesoro su dai alzati, dai alzati tesorino tesorino E' ora di alzarsi dai e tu, è ora di farla papà, dai alzati Viola, ho fame, voglio fare colazione Ok, ti do la pappa, vieni qui, ti do la pappa Oggi ti ho preparato la minestrina di cocco Sì, minestra di cocco Viola, ma che bella bambola Me l'ha regalata il papà Davvero? Sì, ti piace il vestitino? Trovo che sia bellissimo, veramente elegante Lo sai che anche quello l'ho costruito col mio papà? Veramente? Sì, vuoi che ti racconto come l'abbiamo fatto? Sì, mi piacerebbe tantissimo Viola! Che c'è papà? Il nostro ultimo video su YouTube ha appena fatto sette visualizzazioni E quindi? E quindi dobbiamo fare uno speciale sette visualizzazioni Eh Papà, secondo me è meglio fare un vestito per la mia bambola Che ne dici? Guarda, mi hanno già disegnato 18 18? Facci picchia, fai un po' vedere Viola, ma questi vestiti che hai disegnato sono bellissimi Grazie papi Allora, se vuoi possiamo cominciare a farne uno e vedere come viene Quale ti piacerebbe fare per primo? Quello lì ho anche scritto uno perché volevo fare quello per cominciare Ottima scelta, è un vestito bellissimo Sì dai, facciamolo! Baby! Perché hai detto baby? Vuoi sapere quanta esperienza ho io nel campo del cucito? Sì Zero Sì Beh, forse so attaccare un bottone o cose del genere Però possiamo provare a vedere come viene Ti va di buttarci in questa nuova avventura? Sì Qui ho della carta che secondo me potremmo usare per fare il nostro cartamodello Sì Prendi la bambola? Ok Dai La porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa La porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa Il fuoco è sempre vivo, la mano è sempre tesa Il fuoco è sempre vivo, la mano è sempre tesa La porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa Io ti tengo chiuso qua e tu metti lo scotch qua, vai, bravissima, ottimo lavoro, e poi guarda, ne serve un altro pezzo, si, ne serve un altro pezzo, brava, tieni tu, si mettilo lì, va bene, ottimo lavoro baby, se io voglio farlo arrivare fino lì, fino dove hai messo la mano, quindi direi di 3 cm, quindi dobbiamo fare dei tagli di 3 cm qui, qui e qui, viola adesso che ho fatto questi piccoli tagli il vestito può andare un po' più in su e quindi chiedo a te, va bene dove arriva sulle gambe, si, va bene, si, ok, quindi cosa mancano, mancano le bretelline, allora, vediamo un po', più o meno, a occhio facciamo così, poi rifiniamo la lunghezza, taglia lungo questa riga, amore mio, ok, tanto lì hai le forbicine, azzurra, sei contenta che ti facciamo un vestito nuovo? Sì, papà di viola, sono tanto contenta, adesso ti faccio una cara, oh grazie azzurra, sei così gentile, le vedi queste due righe, riesci a tagliare lungo le due righe, sono sicuro di sì, visto che l'hai fatta un po' storte, vado più in dire, visto che l'ho fatta un po' storte? guarda, ah scusami, accipicchia, ecco fatto, bravissima, questo non ci serve e invece questo lo tagliamo in due, va bene, te lo tengo, bravissimo, brava, ottimo lavoro baby, e poi due bretelline due bretelline per il nostro vestitino della nostra bambolina, starà davvero bene anche a te, guarda, va, starà davvero bene anche a te, guarda, sì, hai ragione, allora tocchiamo queste bretelline, metti lo scotch qua, dai, metto io? Sì, uno lo tieni qua, io te lo tengo e tu lo metti, vai, vai, ok, e questo è più o meno come verrà il vestito della nostra azzurra, ti soddisfa? Sì. Mi dai l'ok? Pollice in su o pollice in giù? Su. Così, quello lì è il giù, su. Pollice in su? A te te lo metto così. Ah, è arrivato il momento di mettere il pollice in su a questo video, è qua sotto, qua sotto nel video, pollice in su? O pollice in giù. O pollice in giù se non ti piace, accidenti, però diciamo che se qualcuno è arrivato a vedere il video fino a questo punto è perché gli piace, altrimenti avrebbe già smesso prima, ti pare? Perché devo tenere il pollice? Tu così e io così, così non c'è la croce. Ok, va bene. Direi che il nostro cartamodello è più o meno completato, giusto? Sì. Quindi io farei l'ultima prova, se riusciamo a togliere il cartamodello cioè a svestire la bambola senza distruggere tutto, vuol dire che dovremmo riuscire anche a rivestirla senza rompere tutto. E quindi funzionerà anche col tessuto, tenendo conto che il tessuto sarà un po' più elastico e forse sarà un po' più facile. Quindi facciamo questa prova, vediamo se riusciamo a svestirla senza spaccare tutto. Wish me luck. Che bello. Sei sicuro di farcela? No, non sono sicuro di farcela. Viola! E questo è il tessuto che useremo per la nostra bambola, ma tu lo sai perché sei tu stessa ad averlo scelto al negozio, ti ricordi? È vero, perché mi piaceva. Esatto. Allora Viola, abbiamo misurato 51 cm come altezza del nostro vestito, però dobbiamo tenere conto anche del fatto che sopra e sotto dovremo fare gli orli. Lo so. Ok. E visto che questo misura 1,25 cm, noi lo pieghiamo due volte e facciamo 2,5 cm sopra per l'orlo dell'elastico e due centimetri e mezzo sotto. Quindi tutto 5 cm più alto. Se è alto 51 diventa alto 56. 56? Sì. Questo guarda, lo so, te lo posso assicurare perché questa parte della matematica è alla mia portata. Vuoi sentire un rumore? Volentieri, mi piacciono molto i rumori. Oddio, è bellissimo Viola. E vuoi sentire come si fa a sentirlo molto più forte? Sì. Tengo stretto, eh? Pizzicalo tu. Oh, scusami, dovresti farlo tu. Non lo faccio io. Sì, dai, fammelo tu. Forte. Allora, lì è allineato. Segniamo 56, abbiamo detto, quindi da sopra a sotto sono 56. Sei. E poi misuriamo anche 56 di qua. Poi... Come hai fatto a fare le ricche? Guardando dove era il 56 sul metro. Poi ritagliamo qua. Perché non so se si fa davvero così, però guarda, l'intuito mi suggerisce questo e mi fido. Allora, facciamo così. Due centimetri e mezzo per orlo. Quindi teniamo anche due centimetri e mezzo di qua. Quindi iniziamo da qui. Io adesso farei una cosa molto semplice, tipo che ricalchiamo il perimetro del nostro cartamodello sul tessuto. Posso ricalcarlo io? Ricalcarlo tu? Sì. Ci sto. Allora, prendo mattita. Evviva, 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 evviva. Viola, ottimo lavoro. Abbiamo fatto tutto il contorno del nostro vestito e adesso dobbiamo ritagliarlo stando un po' più larghi. Facciamolo. Ci siamo? Sei pronta? Allora, dobbiamo ritagliare l'altro lato, Viola. Parto. Ok, Viola. Abbiamo appena finito di ritagliare quello che sta per diventare il vestito più bello che abbiamo mai fatto. Cioè l'unico. Per adesso. E quindi adesso state per vedere qualcosa di mai visto prima sul nostro canale. E cioè, papà di Viola che cuce e Viola che fa le riprese. Sei pronta, Viola? Sì. E allora, sì, dai! Cucciamo, baby! Perché hai detto baby? Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda che tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, sorridi al nuovo ospite e non farlo andare via. Se non farlo andare via. Dividi il compagnatico, raccoppiala. Escriviti al nuovo ospite. La luce è sempre accesa Il fuoco è sempre vivo La mano è sempre tesa Il fuoco è sempre vivo La mano è sempre tesa La porta è sempre aperta La luce è sempre accesa E se qualcuno arriva Non chiedergli chi sei No, no, no No, 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 no E se qualcuno arriva Non chiedergli che vuoi No, no, no No, 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 no 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 Corri verso lui Con la tua mano è sempre tesa Corri verso lui Malangagli un sorriso e grida Evviva 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 Sarai più calmo da tu Gli amici a questo servono a stare in compagnia Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via Dividi il compagnatico, raddoppia l'allegria Aggiungi un po' da tavola E così E così E così E così Ed eccoci tornati sul tavolo di Viola E Viola, questo è quello che abbiamo ottenuto Cucendo a casa dei nonni Guarda Che bello Guarda, ti faccio vedere cosa abbiamo Facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo fatto Praticamente Abbiamo fatto il cartamodello Abbiamo poi ritagliato in base al cartamodello Il nostro pezzo di stoffa Abbiamo fatto un orlo Nella parte bassa E abbiamo fatto una specie di Credo doppio orlo o qualcosa del genere Nella parte alta In cui poi abbiamo inserito l'elastico Poi abbiamo cucito tutto insieme Chiudendolo qui E questo è quello che abbiamo ottenuto finora Viola Ti piace? Sì Però è un po' bruttino Con le cuciture all'esterno Ah hai ragione Ma perché questa parte qua Che adesso vedi esterna In realtà è l'interno del vestito Perché ti faccio vedere Guarda Noi abbiamo fatto tutte le cuciture In modo da averle all'esterno Perché in realtà Fai così Infili dentro una mano Anzi no Ti fallo tu Infila dentro una mano Ok Prendi il pezzo con l'elastico E tira E raddrizza bene tutto quanto Quello sarà il dietro E questo pezzo qua con la cucitù Dove c'è la giunta Sarà il di dietro E Vedi che tutte le cuciture Le parti un po' bruttine Sono rimaste all'interno Sì però lo tagliamo A questo sì andrebbe tagliato Hai ragione Aspetta eh Tagliato anche questo E' finito Più più No ma aspetta no Cosa ci manca ancora Le pezzelle è vero Io direi una cosa Prima di tutto proviamo a vedere Se questo vestito che abbiamo fatto finora Calza la nostra bambola O se abbiamo sbagliato qualcosa Durante il percorso La prendo io Ok Allora Piedi dalla tua parte Piedi Aspetta appoggia un attimo il book Non poteva non mettere la testa dalla mia parte Guarda Questa è la parte sopra Glielo calzi tu il vestito Anche se non ancora le bretelline Adesso così premiamo le misure per fare le bretelle Ok Benfili Ti tengo sui piedi Vai vai Vieni vieni Wow Entra bene I fianchi sono un po' più larghi Del resto l'anatomia umana Non l'abbiamo inventata noi Bensì Secoli e millenni di evoluzione Che ne dici? Che bello Ha già un aspetto gradevole Secondo me Poi ci aggiungiamo due bretelline qua Sopra O poi non le facciamo Eh ma poi se non le facciamo poi rischia di discendere Sai poi si ritrova con le tettine fuori Si ritrova così Eh non sta bene Poi voglio dire È carne delicata Bisogna proteggerla dai raggi del sole Ok? Perché quando andiamo in giro insieme Eh sì infatti Allora Noi abbiamo preso questo bellissimo cordino ricamato Che volevamo usare per fare le bretelline E anche una cintura Sì riusciamo E una collana magari Vediamo Se ci avanzano dei pezzi possiamo farlo Allora Allora Puntiamo dietro Consideriamo che Teniamo buono Diciamo un paio di centimetri Per fare la cucitura Quindi Attacchiamo qua E attacchiamo Qua Le bretelline andranno più o meno così Teniamo due centimetri dietro per la cucitura E due centimetri davanti per la cucitura Dobbiamo prendere la misura In modo che Poi per svestirla E per rivestirla La spallina possa scivolare giù lungo la spalla Senza sforzare troppo Prova a vedere se si scivola bene Ok facendo con attenzione Però così Io sto tenendo lì Sembra che Il braccio devi spingerlo contro il fianco Per svestirla E Sembra Sì No ma hai fatto bene Hai fatto bene Deve essere Deve essere a prova di bambino Comunque non possiamo fare una cosa Che dopo che ci giochi Mezz'ora si rompe Deve essere abbastanza buona Prova così Facciamo vari tentativi Finché Scende meglio rispetto a prima Sì Molto meglio Allora viola Tagliamo qui Qui Qua dove ho messo il dito io Prendo la mia forbice Posso tagliare io? Sì Vuoi tagliare tu Aspetta un attimo A me la mia forbice magari Tieni la forbice Io ti tengo Devi tagliare esattamente qua In mezzo alle mie dita Le dita però Non tagliarmi le che mi servono Ok fantastico Ok fantastico Uno Ce l'abbiamo Aspetta un attimo Ma questo una volta tagliato Non si disfa Lo scopriremo Poi un altro Sì in mezzo tra le mie dita E non le dita E non le dita No perché veramente Ci tengo molto Sai a quelle dita lì Ma te Le uso sempre Ma non le usi mai Viola queste sono le nostre due bretelline Ti piacciono? Sì Le dondolante Come mi stanno? Molti stanno bene Te l'abbiamo appena tenuta una Ah Ok Vabbè Tanto non sono per me Sono per azzurra Adesso togliamo il vestito Perché non possiamo cucirgliele Mentre indossa il vestito Sarebbe un po' troppo scomodo Ok Però Dobbiamo Finché c'è lassù Dobbiamo segnare I punti Per capire dove Cucirle di preciso Queste bretelline Ok Potrebbe essere Qua Se ci teniamo un po' più sull'esterno È forse più facile Da vestire e svestire Ah però Rimane molle Però così Ah se te la tengo così Prova a sfila A farglielo scendere Lungo la spalla Scavalcare lo scende benissimo Tieni un dito qua In modo che non si sposti Cioè Devo farlo spostare però Tutta la mia forza ho Super forza Più che forza È una questione di Firmezza Sì Tieni un dito dietro In modo che non si sposti Allora segniamo qua Un segnetto qua dove non si vede Aiutami a svestirla Tira Gentilmente Ma tira Ok sfila Ok Azzurra Aspetta un momento qua Vicino al papino Allora sono 4,8 da un lato E facciamo 4,8 Anche dall'altro lato Mi dai una penna? Ce l'hai lì a portata di mano? Sì ce l'ho qui vicino Fantastico Ho preso in mano Ecco l'altro segno Va fatto qui Ok E adesso cuciamo queste bretelline Dove che sono le due? Sono queste? Allora ci serve Ago Una vasta rassegna di aghi Qua E filo Abbiamo il nostro filo rosa Infiliamo Vicine Il filo dentro alla cruna del lago Eh È difficilissimo sì Lo ammetto Io magari ci va a farlo E potrei anche perdere la pazienza E iniziare a imprecare Ti avverto Ma perché? Cosa vuol dire imprecare? Imprecare vuol dire dire cose tipo Perbacco Maledizione Ti mangio Anche Questo è un vecchio trucco Questo l'ho imparato da mia nonna Lecchi il dito Ci appoggi sopra Il filo Poi lo attorcigli un po' così a casaccio E poi tiri E non so Non ho mai capito com'è Probabilmente per qualcosa legato alla terza legge della termodinamica Si forma un nodo Alla fiera dell'est Per due saldi Un topolino Mio padre compra E venne il gatto Che si mangiò il tavolo che al mercato mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino Un topolino mio padre comprò E venne il bastone Che picchio il cane Che morse il gatto Che si mangiò il tavolo che al mercato mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino mio padre comprò E venne il fuoco che brucia il bastone Un topolino che picchio il cane Che picchio il cane Che morse il gatto Che si mangiò il tavolo che al mercato mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino mio padre comprò E venne il bue che beve l'acqua Che spense il fuoco Che brucia il bastone Che picchio il cane Che morse il gatto Che si mangiò il tavolo che al mercato mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino mio padre comprò E venne il mocellaio Che si mangiò il tavolo che al mercato mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino mio padre comprò E venne il bue che al mercato mio padre comprò E venne il bue che al mercato mio padre comprò E venne il bue che al mercato mio padre comprò E venne il fuoco che brucia il bastone Che picchio il cane Che morse il gatto Che si mangiò il tavolo che al mercato mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino mio padre comprò E venne il signore E venne il bue che al mercato mio padre comprò E venne il bue che beve l'acqua Che spense il fuoco Che brucia il bastone Che picchio il cane Che morse il gatto Che si mangiò il tavolo che al mercato mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino mio padre comprò Alla fiera dell'est per due saldi Un topolino mio padre comprò Taglia qui Che bello Che bello Ok 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 Ottimo Baby Viola Guarda Guarda Cosa abbiamo adesso Il vestitino per la bambola Con le Pretelle Si baby E cosa facciamo adesso? Le lo indossiamo Si proviamo Proviamo Vediamo se funziona Posso metterle io? Certo Devi metterglielo tu Perché poi Sarai tu soprattutto Che ti occuperai Della vestizione e svestizione della bambola Quindi Io ti porgo i piedi Della bambola E tu Glielo indossi Vediamo come viene Glielo calzo Glielo calzi Piano piano Vieni Vieni Piano piano Beh Guarda C'è un allargamento qua sui fianchi Ma Dovremmo Dovremmo Il pingone C'è No Devo tirare su Tirare su Per avere Non tirare dalle bretelle Però No Ecco Prendilo dall'elastico Che è un po' più resistente Dai fianchi magari Prova dai fianchi Ecco Pingi dai fianchi Bisogna fare Scavalcare la mutanda qua Sia da un lato che dall'altro Io lo scavalco di qua Tu lo scavalchi di lì Ricordati Le bretelline ci sono Ma non è che Dobbiamo appenderci e tirare eh Ok Perché Potrebbero non essere Così resistenti Potrebbero Eh Sono comunque cucite Se le è fatte a calzare il nodo? Da un novellino E questo non l'abbiamo mai provato Beh Assomiglia ad altri vestiti di Barbie che hai No? Solo che è grande Perché in effetti Non abbiamo mai avuto una bambola così grande Ecco Allora una bretellina è passata L'altra L'altra bretellina? All'ottupolo Io te la tengo ferma visto che serve Ok Spingiamo giù la manina E passa la bretellina Ok E adesso Saliamo con gentilezza Facciamo così Tira su tu Io tengo strette le braccia Viola Sembra che sta passando abbastanza bene Liscio Guarda Si 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 Mi sa che siamo stati bravi stavolta Viola Come sempre Viola È indossato È indossato non ci posso credere No Così invece È successo È successo È successo Abbiamo fatto il vestito Viola Non ci posso credere E Riusciamo pure a metterlo E l'abbiamo E l'abbiamo L'abbiamo fatto indossare senza che si 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 rompe Cioè L'ha indossato senza rompere Scusa Ho perso Sono così emozionato Che ho perso addirittura L'uso della Della È come si che quella cosa lì Non riesco più a parlare Viola Siamo riusciti a fare un vestito Da zero Da soli Davvero Guarda Che ne dici? E l'abbiamo anche indossato La nostra bambola E non si è rotto Sei contenta? Dammela Un attimo È tutta tua La prendo in braccio Viola che ne pensi del nostro vestito? È bellissimo Piace tanto anche a me E mi dà un sacco di soddisfazione Essere riusciti in questa nuova avventura Si può dire proprio che ce la siamo portata a casa questa volta Quella La cosa del vestito Senti Secondo me c'è ancora una cosa che potremmo fare Per rendere questo vestito Per mettergli proprio l'ultimo tocco di classe Quale? Una cintura Sì Che lo stringe un po' qua in vita Così Non so È lo stesso in vita Sottolinea un po' le forme della bambola Del corpo La mettiamo sopra lì o lì? Così è un po' bassa secondo me La mettiamo qua Guarda Anche perché di questo cordino tutto ricamato Ne abbiamo avanzato un po' Un bel po' diciamo E' un po' da misura anche per questo però Sì Dai fai il giro tu Io tengo le braccia su Fagli fare il giro intorno E dimmi secondo te quanto dobbiamo tagliarla Tagliare? Tagli tu Ok Aspetta voglio slegare il nodo e fare in modo che sia lungo uguale Va bene Qui faccio il nodo Vai fai il nodo Ce ne avanza un bel pezzo Con questo vedremo cosa farci magari ti lego No 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 Ma si ti lego quando fai la birba No Come un salame Facciamo altri accessori per lei Sì Viola ti piace il vestito che abbiamo fatto per azzurra? Sì tantissimo Anche a me tanto E sai qual è la cosa che mi piace di più? Il fatto che è una cosa nuova Noi non avevamo mai fatto prima una cosa del genere Io personalmente non avevo mai cucito con la macchina per cucire Ho fatto vestiti o cose del genere E Io onestamente ero anche un po' preoccupato all'inizio Non sapevo se saremmo riusciti a terminare questa Impresa Impresa Bella Grazie per l'aiuto Lessicale Non lo sapevo E alla fine ce l'abbiamo fatta E quindi è una È veramente una conquista È una gran soddisfazione E Aspetta potremmo fare Sì dai Missione Compiuta Facciamo? Sì dai Missione Compiuta Baby E quindi il video è finito No papà Dobbiamo fare saluti Ah sì In uno dei nostri ultimi video Speciale festa del papà Dove recite la poesia Il papà gelato che ti hanno insegnato a scuola E mi hai regalato quella meravigliosa tovaglietta Che solo a pensarci mi commuovo Luisa un guru ci ha chiesto di salutarla Ci stai? Sì Salutiamo Luisa? Sì Allora facciamo sì dai Ciao Luisa Va bene? Dai Sì dai Ciao Luisa Viola Sei fortissima E noi ci vediamo il prossimo lunedì per un altro video di papà di Viola E Viola E forse ci sarà anche Azzurra Ciao 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 Gli animali non hanno ombrello Poi non portano mai il cappello Piove tanto e si son bagnati Sono già tutti raffreddati Che si fa chi aiuterà